Ciao a tutti, sono Riccardo Barba, insegnante di pianoforte, tastiere e storia della musica presso la Scuola di Musica del Garda di Desenzano. Per il percorso Academy, oltre a insegnare pianoforte principale e pianoforte complementare per cantanti e altri strumentisti, insegno anche storia, teoria e analisi dei generi musicali moderni, songwriting e armonia moderna e tecniche dell'improvvisazione. Durante il corso di storia, teoria e analisi dei generi musicali moderni che si svolge durante il primo anno del percorso Academy, affronteremo insieme una serie di monografie legate a personaggi, musicisti e band importanti a partire dalla nascita della popular music, quindi parleremo di jazz, parleremo di musica pop, di rock and roll, fino ad arrivare ai giorni nostri e ai generi musicali più vicini a noi. Nel corso di songwriting invece mi occuperò della parte musicale, quindi affronteremo insieme tutte le sfide di un musicista, di un compositore che vuole scrivere la musica per la propria canzone, quindi tecniche di arrangiamento e tecniche di composizione. Il corso di armonia moderna e tecniche dell'improvvisazione invece tratta tutte le sfaccettature armoniche di generi come il jazz, come il rock, come la musica pop e l'utilizzo delle tecniche improvvisative di base per potersi destreggiare in tutti questi generi. Vi aspetto quindi a partire da settembre 2021 alla Scuola di Musica del Garda per seguire insieme a me e a tanti altri magnifici insegnanti il percorso Academy, rivolto a tutti coloro che vogliono rendere la propria passione, la musica, un lavoro, una professione. Ciao a tutti!